In Italia sono sempre di più i giocatori legali e illegali, un giro d'affari da miliardi di euro che fa gola anche alla criminalità organizzata. Le cifre le ha fornite l'Eurispes, il servizio di Maria Grazia Fiorani. Il gioco è un paio di volte a settimana. Quanto spende per giocare? No, un euro a giocata, diciamo mediamente 10 euro a settimana. Ha vinto mai? No. Però continua a giocare perché la diverte? Sì, per buttare un euro. Un euro qua, un euro là sarà anche così, ma in sei anni sono stati spesi 194 miliardi e solo entro il 2010 gli italiani arriveranno a giocare 58 miliardi di euro, una cifra astronomica. E allora il mercato dei giochi, come spiega la ricerca dell'Eurispes presentata oggi, è diventato una vera e propria industria. Come dire, un fenomeno sociale, ma anche una manna per le casse dello Stato, che grazie alla voglia di vincere degli italiani hanno incamerato quasi 8 miliardi di euro nel 2008. Tanti, quasi 35 milioni, gli italiani solleticati dalla sottile speranza di fare il colpaccio. L'importante è che lo Stato combatta le sacche di illegalità, l'importante è che l'amministrazione sottragga risorse a chi gestirebbe comunque il gioco in termini illegali. La mania del gioco contagia soprattutto i giovani grazie alla diffusione delle scommesse online, ma l'offerta si è talmente diversificata tra gratta e vinci, scommesse sportive, enalotto, super enalotto, che ognuno può trovare il suo modo di tentare la fortuna. Win for life, che promette una rendita mensile, accontentati anche quelli che non vogliono tutto e subito. Non si sa mai.